Bene amici, rubricona domenicale ma partiamo immediatamente con due mezzi miracoli per poi ovviamente proseguire con tutta la nostra ricca carrellata di nuove date, nuove rate, da qui anzi da domani ai primi dieci giorni di giugno. Finalmente però, lo vedete, bonus 600 euro fino a 600 euro psicologo, decreto attuativo, finalmente davvero firmato e poi dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale IMSS avrà 30 giorni per andare a predisporre le domande. Attenzione però, chi prima arriva meglio alloggia visto che le risorse sono molto limitate, tetto ISEE a 50.000 euro ma priorità poi agli ISEE bassi. E poi eccolo qui attesissimo anche lui, RDC.com.au, disponibile ormai lo sappiamo da qualche giorno e no, non devono compilarlo tutti i beneficiari RDC ma come ci dice la circolare 53 solo quei nuclei con alcune particolarità, figli maggiorenni fino a 21 anni, che siano studenti disoccupati, tirocinanti eccetera, che abbiano diritto a maggiorazioni ad esempio per le mamme under 21 oppure nei casi di divorzio, separazione, genitori non conviventi, affidi eccetera eccetera. E ora invece sì, tutti i pagamenti in arrivo da domani, da domani, sigla. Io sono Mr. Lul, prima, like, iscrizione, campanone, abbonamentone e partiamo. Dunque, mercoledì 1 giugno, pensioni, sia banche che poste. Vi ricordo invece che la 14esima, come il bonus 200 euro, saranno sul cedolino di luglio, sulle pensioni di luglio in pagamento, pensate un po', primo luglio. Disoccupazione, naspi, discol, continuano i pagamenti, spezzatino del mese diciamo di maggio, che appunto vanno avanti, ma siamo già, lo sentite no, in odore della naspi di giugno competenza a maggio. Vedrete che verso la fine della settimana inizieranno le prime elaborazioni e poi vedremo le prime disposizioni, quindi i primi pagamenti tra il 6 e il 9 di giugno. Ora, assegno universale figli, su domanda, competenza maggio, ancora mille mila date anche per questi primi giorni di giugno. Invece per la competenza di giugno su giugno dovremmo attendere, come sempre, circa la metà del mese. Vi ricordo che non esistono date calendarizzate fisse, quindi variano ogni mese. Poi bonus figli disabili fino a 500 euro. Pagamenti, IMSS ci ha detto, con circolare, entro 90 giorni, ma entro 90 giorni, ora sostiene l'istituto, dal termine di fine presentazione delle domande, che era a fine marzo, quindi diciamo che hanno preso ancora un po' di tempo, ma entro giugno devono arrivare comprensivi degli arretrati. Ci siamo, reddito e pensione di cittadinanza, state attenti perché devo dirvi una cosina, maggio archiviato, no? Mancano però le lavorazioni per l'integrazione assegno universale, competenza aprile o eventuali arretrati, che però arriveranno a ore con disposizioni imposte, di conseguenza pagamenti, diciamo entro martedì 31. Le ricariche invece RDC di giugno saranno il 15 metà mese e 27 fine mese, visto che questi sono entrambi giorni feriali. E poi facciamoci una risata. Alcuni esponenti illuminati di Forza Italia hanno proposto di sospendere il sussidio, di sospendere RDC almeno per il periodo estivo. Questo per favorire il settore turistico che, sapete, non riesce a trovare stagionali proprio a causa, secondo loro, di RDC. Insomma, menti sopraffine e a proposito, non succederà niente ovviamente, comunque è solo una butad, a proposito però di menti sopraffine, ministro Stefani, gongola per l'accessibili act appena firmato. A breve diciamo ebook, cellulari, bancomat e biglietterie dovranno tutti rispettare determinati requisiti per essere accessibili a tutti. Bene, benissimo, per carità, ma non so, parlare di tagli a RDC per le pensioni e degli importi delle pensioni che ebook, cellulari e biglietti andiamo a comprare con 280 euro. Ministra, chiudiamo con il bonus bebè, nuove date ancora per questa settimana e veramente infine live chat info chic, l'unico canale per avere i termini di pagamento e le informazioni puntuali sulle vostre integrazioni salariali, come ad esempio appunto la cassa integrazione. Detto questo, se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti, spero che la rassegna sia stata utile, quantomeno interessante, se è così, lo sapete, like, iscrizione, campanone, abbonamentone, condivisione, se avete piacere. Ci vediamo alla prossima, grazie da MrLul.